Il calcio d'angolo per la Virtus Castelfrendano, la palla, c'è, tira, ha segnato la sua, la decima rete, è la quarta rete proprio della giornata di Gianluca Malvone, risultato a questo momento 10 a 1, adesso c'è il prossimo campio, si prepara Manuele Caporale e Luca Rulli, per il cambio, state quasi a centro, aspettate che si interrompe l'azione e preparatevi ad entrare.